L'assistito si è avvalso nella facoltà di non rispondere, non facciamo nessuna dichiarazione, siate gentili e professionali, consentiteci di operare perché abbiamo delle udienze fuori distretto. Come sta il suo assistito? Non sta in buone condizioni di salute. Che significa che non sta in buone condizioni? Non facciamo nessuna dichiarazione.